ben ritrovato con la sfida eccoci che in questo video andiamo a riprendere la strategia data nel mese di maggio così vedremo un po come si è evoluta come si è comportata e capiamo sempre meglio come costruire queste strategie attraverso la tecnica del commodity spread quindi una tecnica di investimento basata sulle materie prime utilizzando la strategia dello spread che ci consente sempre di avere una posizione coperta diminuire il rischio ma comunque avere la possibilità di garantirci dei guadagni molto interessanti appunto per avere un'altra rendita un altro stipendio ogni mese e tutti gli anni andiamo dunque a capire un po come si è comportata dunque nella mese di nel mese di giugno scusate avevo commesso un errore nel mese di giugno abbiamo questa strategia sul grano in particolare si tratta di una strategia dove si prevedeva la vendita di dicembre del 2019 quindi una future di dicembre del 2019 e la contemporanea di acquisto di marzo del 2020 quindi si tratta di uno spread sempre sulla grano che ha il simbolo di zv quindi si chiama uno spread intra market cioè con la stessa materia prima ma scadenze differenti le commissioni richieste sono sempre abbastanza contenute per fare riferimento alla piattaforma di interactive il capitale investito o meglio il capitale che ci viene richiesto per impostare questo tipo di strategia è di 256 dollari ma non si tratta di un costo semplicemente di un capitale che viene messo a garanzia e ci viene restituito nel momento in cui chiudiamo l'operazione insieme al profitto o alla perdita che abbiamo conseguito l'obiettivo dato per questo tipo di strategia era nell'ordine di 260 dollari quindi sicuramente un obiettivo molto importante se paragonato al capitale richiesto di soli 256 dollari ora andiamo più nel dettaglio e vediamo come si è comportato in particolare partivamo da un prezzo di questo tipo cioè un prezzo di meno 9 e 75 essendo lo spread un differenziale molto spesso ci possono essere dei prezzi positivi o dei prezzi negativi ma senza andare a trovare tante interpretazioni noi abbiamo deciso di vendere questo tipo di spread perché abbiamo deciso di vendere la scadenza più vicina nel tempo di ricomprare quella successiva quindi fondamentalmente puntiamo su un rientro al ribasso di questa linea nera che rappresenta appunto lo spread cioè diciamo la differenza la fusione di questi due future mentre le linee blu rappresenta la media degli ultimi 15 anni mentre la linea rossa degli ultimi cinque come possiamo vedere nel periodo in cui in questione l'andamento è stato pressoché laterale per qualche riguarda quello delle medie stagionali poi il picco di stagionalità ribassista arrivava diciamo verso la fine di giugno i primi di luglio un po in controtendenza con la stagionalità l'andamento del dello spread è stato un poco più rialzista nel periodo precedente una cosa che assolutamente ci fa piacere perché ci permette di vendere qualcosa ad un prezzo magari mediamente più alto rispetto al periodo precedente e quindi riuscire a trattare ancora meglio a questo tipo di strategia ma andiamo a vedere effettivamente come si è comportato nell'arco di questo mese un mese all'incirca che è trascorso dunque il livello precedente cioè quindi quel meno 9 e 75 è individuato da questa linea orizzontale tratteggiata e poi ho inserito anche il punto di ingresso short quindi che cos'è successo c'è stata una continuazione al rialzo andando a prendere dei prezzi anche superiori rispetto a quelli che vedavamo inizialmente su questo tipo di su questo tipo di posizione poi però le quotazioni si sono riprese al ribasso in realtà il punto preciso è questo come vediamo dall'immagine precedente quindi a dirla tutta c'è stato prima un movimento di rientro poi una continuazione al rialzo poi un po' in linea con la stagionalità ribassista è incominciata questa flessione ricordiamoci anche che la stagionalità non è che può essere sempre perfettamente rispettata giorno dopo giorno perché ogni anno può cambiare un po' il clima la domanda l'offerta il dollaro quindi prendiamolo sempre con le pinze e ci può essere sempre qualche giorno di differenza quindi c'è stato questo rientro delle quotazioni poi il prezzo si sta provando un po' a stabilizzare diciamo che il movimento dal nostro punto di ingresso fino al momento attuale è un movimento di 137.5 dollari quindi rispetto all'obiettivo siamo un po' sotto quindi siamo all'incirca alla metà dell'obiettivo che ci eravamo prefissati rimane comunque al momento un rendimento molto interessante rispetto all'investimento richiesto perché è praticamente il 50 per cento in a pochissimo tempo nel giro di un mese quindi vogliamo noi guadagnare di più perché 137 dollari non è sufficiente comunque noi ci possiamo permettere anche una capitale superiore benvenga al posto di fare un contratto ne possiamo sicuramente aggiungere un secondo se non un terzo e così via quindi anche il profitto e il rischio la dimensione della posizione è qualcosa che possiamo comunque decidere noi in base appunto a obiettivi e capitalizzazione quindi il risultato è sicuramente molto positivo e confortante anche se non è ancora stato raggiunto l'obiettivo dico ancora perché la vita di questo spread non si è conclusa e non è che si conclude con la nostra sfida perché è passato un mese ma la scadenza di questo spread è addirittura apposta a fine novembre del 2019 quindi abbiamo diversi mesi per vedere l'evoluzione di questi prezzi ma soprattutto quello che ci interessa è un po' il periodo attuale cioè siamo ancora in presenza di una stagionalità assolutamente ribassista soprattutto se consideriamo la linea rossa cioè la media dei cinque anni ed è ribassista in maniera piuttosto pronunciata fino all'incirca alla fine di luglio quindi abbiamo ancora qualche settimana per vedere anche di raggiungere quell'obiettivo appunto dei 260 dollari quindi staremo a vedere se poi ci arriveremo ma anche al livello di prezzo attuali ripeto che dal mio e dal nostro punto di vista sicuramente l'investimento è risultato decisamente positivo si tratta tra l'altro di una strategia che stiamo trattando meglio abbiamo trattato anche nel nostro trading club che è il palinsesto di live trading dove mostriamo il nostro conto reale e operiamo dal vivo tutte le settimane abbiamo fatto un webinar conclusivo dei primi sei mesi dell'anno anche per mostrare un po' i risultati le operazioni buone quelle cattive e fare un po' il punto della situazione ve lo faccio vedere questo è un po' l'esito di tutte le operazioni messe in campo è stato un totale di 30 operazioni di cui 26 in positivo 4 in stop loss quindi il risultato finale è stato sicuramente molto interessante perché abbiamo superato i 24 mila dollari di profitto nel giro di sei mesi ma soprattutto utilizzando una capitale di circa 50 mila dollari quindi un risultato davvero molto molto importante per un periodo così breve a volte riusciamo a fare risultati di questo tipo a volte sono inferiori l'importante è comunque avere un segno più mese dopo mese e sicuramente cercare di avere risultati più costanti possibili per avere appunto quella rendita continua mese dopo mese che è un po' l'obiettivo di tutti noi all'interno di queste tecniche può essere vista anche come una semplice slide scritta da noi ma la bella notizia che vi do è che tutte queste operazioni sono state fatte in diretta motivate e spiegate e sono documentate da registrazioni presenti all'interno dell'accademy del nostro sito quindi qualora voleste essere parte di questa squadra e della trading club avete tutta la possibilità di andare anche a ritroso e vedere queste operazioni messe in campo oltre a chiaramente le nuove che faremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi quindi è tutto trasparente è tutto alla luce del sole non ci possiamo inventare niente non possiamo neanche costruire una report farlocco perché appunto ogni operazione è altamente documentata all'interno di ogni registrazione che andiamo a mettere in campo quindi potete rivederlo assolutamente con i vostri occhi perché chiaramente io dico sempre che le persone possono dubitare di ciò che diciamo ciò che scriviamo su una slide o sulla lavagna ma devono credere per forza a ciò che facciamo quindi i fatti i risultati la statistica concreta e i numeri sono quelli mai opinabili che per quanto mi riguarda parlano sempre per noi e tutti gli altri ora prima di magari fare un passaggio all'interno della squadra del trading club anche per continuare la crescita e la conoscenza verso questa strategia verso questa tecnica dello spread al di sotto del video in questione come è stato per quello di maggio troverete anche un codice di sconto del valore di 50 euro per accedere allo starter pack o volendo lo teniamo buono sicuramente anche per il trading club lo starter pack è un passaggio un poco più intermedio è un passaggio però molto interessante perché c'è un completamento della teoria vi vengono dati tutti i dettagli anche per imparare l'utilizzo della piattaforma e tanti altri materiali che vi rimarranno vi rimarranno perché lo starter pack come materiale didattico vi rimane a vita sempre disponibile viceversa ogni settimana ci saranno la possibilità di porre domande e chiaramente ricevere risposte da parte nostra e sarò io a dare ogni settimana due strategie più dettagliate chiaramente rispetto a quelle della sfida e potete esercitarvi tutto questo dura per un mese viceversa la didattica rimane per sempre ringrazio per aver partecipato anche a questa sessione per aver partecipato alla sfida ci vediamo al prossimo video ma soprattutto vi aspettiamo nella squadra della trading club oppure passando dallo starter pack grazie ancora a presto grazie a tutti grazie a tutti